Sono circa 3 milioni di persone affette da sclerosi multipla, è veramente una patologia questa molto invalidante, è una patologia infiammatoria cronica o demoralizzante a carattere autoimmune, dove per la prima volta fu descritta nel 1866, dove sclerosi sta per una malattia che produce varie lesioni, varie cicatrici, a livello del nostro sistema nervoso centrale è multipla, perché queste lesioni possono essere sparse, diciamo, in quasi tutto il sistema nervoso centrale, dove il sistema immunitario va ad attaccare le guaine mieliniche, che sono i manicotti che ricoprono gli assoni, che sono parte delle cellule nervose, e quindi in questo caso ci sarà l'impulso che viaggia lungo questi assoni, sarà un impulso che viaggerà molto lentamente, quindi ovviamente da qui cominciano a verificarsi, quando questo impulso rallenta, si cominciano a verificare, possono essere cipa di problemi, quindi di disequilibrio, problematiche alla vista, problematiche di tremori e tante altre cose, perché sono tante tante le problematiche presenti, poi esiste una scala che è detta EDSS, che va da 0 a 10, dove più si è in alto, più la persona ha più cicatrici, magari più lesioni, più avrà più problematiche, però io ormai dal 2014 mi occupo di sclerosi multipla, a livello ovviamente di gestione delle persone a livello alimentare sempre, ma vedo sempre di più trascurato questo aspetto, l'aspetto alimentare, ma l'aspetto in generale dello stile di vita, perché se dico che è una patologia infiammatoria, devo cercare di abbassare l'infiammazione, ma l'infiammazione ovviamente devo cercare di far seguire alla persona un'alimentazione più consona, eliminando tutti i vari cibi che creano le varie sostanze che creano infiammazione, quindi gli zuccheri, gli ulcoranti, le farine raffinate, devo cercare di andare a gestire bene anche il discorso del glutine, dei latticini, perché spesso e volentieri c'è una, nei pazienti con sclerosi multipla, c'è una sia disbiosi, ma sia alterazione della permeabilità intestinale, devo andare ad agire sui mitocondri, che sono le centraline energetiche presenti all'interno di ogni cellula e che producono anche un potente antiossidante che è la melatonina, infatti in questi pazienti abbiamo anche altri livelli di radicali liberi, quindi c'è un alto stress ossidativo perché questi non vengono controbilanciati dalle nostre difese antiossidanti, quindi anche devo andare ad agire, a mettere nell'alimentazione anche cibi che non solo vanno ad alcanizzare l'ambiente, ma cibi che vanno con un alto potere ORAC, quindi antiossidante, quindi frutta e verdura per esempio, sono fondamentali, quindi dobbiamo fare veramente grossa attenzione, perché poi non è solamente un discorso di alimentazione, ma è un discorso di tutto lo stile di vita da correggere, è uno stile di vita antinfiammatorio che dobbiamo adottare, perché se noi ci concentriamo solamente sull'alimentazione facciamo poco, ma dobbiamo concentrarci sulle nostre emozioni, sul nostro stress, sulla gestione, sul nostro stress, sul discorso del movimento, ma tutto un atteggiamento mentale deve cambiare, perché ovviamente, perché se vuoi abbassare i livelli infiammatori, devi operare in questo modo, non puoi dedicarti solamente al cibo sì, al cibo no, e risolvi la situazione, quindi diciamo che l'intervento deve essere fatto a 360 gradi sulla persona, spero che questo mio video sia un video di cercare di sensibilizzare di più, a crederci, a credere di più a questo che è ad adottare uno stile di vita antinfiammatorio per le tante persone che mi scrivono dicendomi dottore ho la sclerosi multipla che devo fare, spero che diciamo in questo breve video ho descritto un pochino le cose diciamo prioritarie, se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, poi condividerlo con i tuoi amici e seguirmi sui vari social facebook, instagram e youtube, ciao! Ciao!